Questo evento mi ha suscitato questo tipo di considerazione. Proprio domenica rileggevo l'ultimo capitolo del saggio di Maria Montessori, i segreti dell'infanzia. Un saggio in cui la Montessori sottolinea che la scuola materna statale è il frutto di una lunga conquista politico-sociale. Non è un'istituzione scontata, perché prima l'educazione dei bambini veniva affidata soltanto all'associazionismo cattolico o alle famiglie. E quindi questa iniziativa che apre addirittura a bambini piccolissimi, due o tre anni? È un'iniziativa che ha portato avanti prima Lidia Gentile che mi ha preceduta e poi ho accolto e ho continuato in collaborazione col Comune di Ischia con grande entusiasmo, perché penso che da questa sinergia possano crescere per entrambi gli operatori, quelli che si occuperanno della sezione Primavera e anche gli insegnanti di Villa Durante. Un'occasione importantissima e direi bellissima, visto che i protagonisti sono i più piccoli, bambini da 0,24 mesi che entrano nel mondo della scuola pubblica con questo progetto Primavera messo a disposizione del Comune di Ischia. del Comune di Ischia dieci bambini inizieranno appunto per tre mesi circa con questa nuova avventura e gli ambienti sono stati messi a disposizione anche dal Comune e in bocca al lupo a questi più piccoli. Oggi di fatti abbiamo piantato un seme e dovremo essere bravi a coltivare per migliorare quella che è la società del futuro. Su questa iniziativa degli asili Primavera bisogna ringraziare tutti coloro che si sono prodigati affinché tutto andasse bene, quindi l'assessore Boccampuso, la direttrice del primo circolo, la dottoressa Cirillo, tutto l'ufficio di piano dell'isola di Ischia che si sono prodigati affinché tutto andasse per il meglio. Queste sono giornate belle perché si riesce a dare dei servizi significativi alla collettività, servizi importanti che metteranno in condizione le famiglie di crescere in maggiore tranquillità dando la possibilità ai genitori di avere un po' di tempo libero per continuare a lavorare nelle loro faccende mattutine. È un passo verso una società moderna che riesce a tutelare nella migliore maniera possibile i componenti della collettività.